Giustivalter presenta Gran fondo dell'Appennino che sono partiti, nonostante questo brutto tempo, da Pistoia facendo un lungo giro sulle montagne dell'Appennino centrale questa qui è al momento, alle ore 10, la situazione alla Betone siamo in attesa all'arrivo speriamo che tutto si svolga nei migliori dei modi temiamo molto per questi 500 atleti che sono partiti in bicicletta per fare questo giro per ora non arriva ancora nessuno con queste immagini dell'Abetone signore e signori, Giustivalter vi saluta, a presto ciao ciao PS a Betone infreddoliti sulla piazza aspettano gli atleti che devono arrivare da un momento all'altro ne sono partiti 520, si pensa che una ventina arrivino siamo in attesa oltre che agli atleti anche della neve la tormenta di neve si abbatterà sulla Betone fra poco tempo prepariamo per favore le stufe per questi poveri atleti quei pochi che ci la faranno arrivare qua su signore e signori con queste belle immagini invernali oggi è il 13 di giugno grazie a tutti